In Finmeccanica c'è ancora tanto, tanto lavoro da fare che non ci si può fermare davanti alle piccole proteste. Il riferimento fatto più volte durante l'assemblea degli azionisti dall'amministratore delegato Moretti riguarda gli impianti aeronautici di Alenia Ermacchi, azienda del gruppo, in Puglia e Campania, proprio nel giorno in cui quest'ultima regione è stata interessata dagli scioperi degli stabilimenti di Pomigliano d'Arco e Nola. Moretti, parlando degli obiettivi di rifocalizzazione sul core business e di riorganizzazione di Finmeccanica, ha tirato in ballo le proteste e ha voluto rassicurare Puglia e Campania sul futuro nel loro territorio dell'aeronautica civile. Non abbiamo nessuna intenzione di ridurre la presenza nel settore delle aerostrutture, ha detto a Chiarelettere. Abbiamo anzi, ha spiegato, una buona possibilità di raggiungere anche in questo settore margini positivi. Tutto ciò in sostanza a smentire le notizie di alcune settimane fa che parlavano della sua volontà di chiudere lo stabilimento di Grottaglia in provincia di Taranto perché è improduttivo. Vogliamo portare queste strutture alla redditività, ha spiegato ancora Moretti. Sarebbe questo un percorso utile a evitare effetti sull'occupazione, su cui ha sottolineato al momento non ci sono rischi e a garantire, ha aggiunto, occupazione stabile in futuro. Più efficienza dunque e condizioni di competizione pari a quelli dei concorrenti. Ma per ottenere tutto questo occorre lavorare insieme. L'amministratore delegato di Finmeccanica ha lanciato un messaggio ai sindacati. Basta urlare sui giornali, ha detto. Chiediamo la collaborazione di tutti. Invece di urlare, si confrontino.